Nuovo appuntamento con Castellana Letteratura sotto l'albero, speciale edizione natalizia della Kermesse, organizzata dal Circolo Lettori di Castellana Grotte con il patrocinio e il supporto del Comune di Castellana. L'incontro di mercoledì 29 sarà tutto incentrato sulla Puglia, su Castellana Grotte e sul territorio in generale. Niki Persico, anche direttore artistico di Castellana Letteratura, presenterà insieme alla giornalista Mediaset Rossella Eibone due libri che parlano espressamente del circondario ed in particolare della città delle grotte. Protagonisti della serata infatti saranno Puglia, la sposa promessa di Leflener, nel quale è contenuto un racconto dal titolo Monstrum Puglie che ruota tra narrazione e leggenda attorno ad un fenomeno unico nella storia e a Ghir, breve racconto giallo, contenuto nel volume Giallo in Tour, edito dai Senza Tregua sotto l'egida del Festival Giallo Garda, ambientato interamente nei segreti e nella storia della città delle grotte. Prossimo appuntamento il 4 gennaio con Il segreto della Maddalena, edito da Leflener, con la sua autrice Anna Laura Gianelli e la partecipazione di Enzo Varricchio, scrittore volto di Antenna Sud.